Via Libera della Giunta alla manifestazione di interesse per la concessione del servizio di installazione su suolo pubblico di colonnine di ricarica per veicoli a trazione elettrica. L'esecutivo ha dato mandato al settore tecnico di predisporre gli atti, viste le numerose richieste pervenute da parte di società commerciali per lo sviluppo di una rete di ricarica cittadina. Di qui la decisione di aprirsi anche ad altre società attraverso un avviso pubblico che garantisca la partecipazione di tutte le ditte in possesso dei requisiti.